Come andare in pensione nel 2024? Pensione anticipata. Sia i lavoratori con sistema misto, primo contributo al 31 dicembre 1995, che i lavoratori con sistema contributivo, primo contributo al 1 gennaio 1996, possono richiedere la pensione anticipata. Il requisito contributivo è di 41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini. Sono richiesti 35 anni di contribuzione effettiva. I lavoratori con sistema contributivo possono richiedere la pensione anticipata anche con 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione. Una prima rata di pensione non inferiore a tre volte l'assegno sociale mensile, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli. Pensione di vecchiaia. Per entrambe le tipologie di lavoratori la pensione di vecchiaia è possibile a 67 anni e requisito contributivo di 20 anni. Dal 1 gennaio 2024, per i lavoratori con sistema contributivo la pensione è possibile se il requisito di importo soglia è pari all'importo dell'assegno sociale. 534,41 euro per il 2024. In alternativa, i lavoratori con sistema contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni e con 5 anni di contributi effettivi a prescindere dall'importo della pensione. Opzione donna. Per il 2024, possono accedere alla pensione opzione donna le lavoratrici dipendenti, caregivers, invalide 74%, dipendenti o licenziate da aziende in crisi che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, con almeno 61 anni di età, ridotti di un anno per ogni figlio, massimo due anni, con almeno 59 anni di età se dipendenti o licenziate da aziende in crisi. Quota 103. L'accesso alla quota 103 è consentito ai lavoratori dipendenti di almeno 62 anni e anzianità contributiva di almeno 41 anni entro il 31 dicembre 2024.